Allora, iniziamo la colorazione. Ho preso l'acqua, i pennelli, punta tonda, punta pianta per le parti più larghe, oppure la brush pen. Ho questa, adesso io userò questa, però voi potete fare anche col pennello. Faccio con questo così va bene per tutti. Innanzitutto sappiamo che il foglio deve stare un po' inclinato, soltanto che io per riprendere adesso il foglio non ce l'ho inclinato. Facciamo un po' così, ecco. E quindi cominciamo dall'alto. Allora, facciamo così, faccio quello con le nuvole così è tutto uniforme e è più facile. Prendo un po' di ciano, prendo un po' di ciano e comincio a colorare dall'alto per fasce orizzontali. Ricordatevi di non lasciare mai asciugare la riga che state colorando. Perché se lasciate asciugare quella goccia, quel serbatoio d'acqua che sta in alto, che avete appena passato, quando andate a ricollegarvi con la fascia inferiore, si vedrà troppo la riga. Quindi prendete sempre un po' d'acqua, non troppa, non troppo poca, direte, eh, quanta? Eh, non lo so. Vi dovete regolare, però lì non si deve mai asciugare, perché se no rimangono le righe. Quindi andiamo sotto, prendiamo un altro po' di colore. Andiamo proprio veloci, tanto le nuvole le possiamo fare come vogliamo. Adesso ho abbastanza acqua sul colore lì e quindi non ho più bisogno nemmeno di riprenderla dal bicchiere. Ecco qua, io vado a colorare velocemente. Non fate asciugare ancora queste gocce, perché se no poi ci rimangono delle brutte tracce di separazione tra uno strato e l'altro. Fate sempre come lo scanner, cioè linee orizzontali più possibile. Potete usare il pennello con la punta piatta. E come facciamo? Facciamo che all'orizzonte il cielo lo facciamo più chiaro. E magari adesso però facciamo uno strato tutto uniforme, con questo celeste tutto uniforme. Quindi coloriamo tutto quanto il cielo in maniera uniforme. E poi andiamo ad aggiungere un po' di colore in alto per dare un po' il senso, diciamo, della distanza, dell'immensità del cielo. Quindi coloriamo bene tutto quanto. Usiamo delicatezza, perché se no se ci passiamo due milioni di volte il foglio si spappola. Il foglio, tra l'altro, mi sono scordata di dire, non è un foglio liscio, ma è un foglio di quelli ruvidi F4. In realtà non è proprio ruvido, questo della Fabriano potremmo definirlo semiruvido, però a noi già per il nostro acquerello già ci va bene. Il foglio liscio invece ci rende tutto molto più complicato perché l'acqua scivola via, non si ferma e quindi è difficile disegnare e dipingere con l'acquerello sul foglio liscio. Ci vuole proprio una grandissima abilità. Quindi andiamo avanti, mettiamo un altro pochino, tanto adesso lo su piano piano si è asciugato, mettiamo un altro pochino di colore verso l'alto, nella parte più alta. E il cielo potrebbe anche non essere perfettamente uniforme, quindi ci potrebbe avere dei riflessi di altri colori, una tendenza che ne so, magari un po' più a un blu quassù. Però come dobbiamo fare? Li dobbiamo sfumare, quindi se sovrapponiamo si scurisce già, però nel passaggio da una tonalità all'altra dobbiamo cercare di essere assolutamente bravi a sfumare le due tonalità. Per esempio qui piano piano vado a, e anche quassù non sono tanto stata brava perché si vede proprio una riga, quindi visto che è ancora bagnato vado un po' a metterci altro colore in maniera tale che si uniformi tutto. Eccoci qua, posso andare a scurire un altro pochino se vuole, do quassù. Però non ci devo passare due milioni di volte perché sennò poi il foglio comincia a sbriciolarsi a causa dell'attrito di questi pennelli che poi magari non sono poi così delicati perché magari sono di setole dure e rovinano il foglio. Passandoci sopra troppe volte. Ecco qua, ho cercato di essere abbastanza uniforme come colore, di passare il colore abbastanza uniformemente. Qui non ci vedo perché ho il riflesso della lampada, speriamo bene. Ok, e quindi eccoci qua, qua ugualmente alla fine c'è un po' di confusione. Ok, adesso andiamo a dipingere il mare. Il mare di solito è un pochino più verdastro, quindi potremmo mettere, potremmo fare uno strato di ciano, ma potremmo anche aggiungerci un po' di verde. Vediamo un po' cosa viene. Ah, dovete stare attenti che qui si sia asciugato perché sennò poi è troppo verde. Prendo il ciano e vado a correggere. Come correggo? L'unica cosa è passarci sopra con l'acqua e distribuire un po' il più possibile questo colore. Oppure prendere lo scottex e tamponarlo. E già un po' si corregge. Quindi poi proseguire con il ciano. Io ho lasciato tutte le scritte perché, essendo la prima prospettiva, non c'è niente di male, anche se ci stanno le scritte. Ecco qua. Anche il mare non è tutto uniforme. E più lontano di solito sembra più scuro. E quindi magari ci andiamo ad aggiungere un po' di colore, sempre cercando di diluirlo bene. Ecco, noi adesso ci accontentiamo di una colorazione uniforme, anche se ci sono le onde, quindi uniforme questa colorazione non sarà. Però noi per adesso la facciamo così. Se volete ritoccate un po' qua. Ma io sto un po' scomoda e non riesco a fare quello che vorrei. Ok, adesso a questo punto andiamo a colorare la scacchiera. La scacchiera, se volete, la possiamo fare anche di un colore, non per forza nero, un colore scuro ma non nero. Oppure mescoliamo il nero con il vostro colore preferito. Così magari è un nero tendente al biovelo, un nero tendente al blu, quello che volete. Adesso mi si sono cancellate le linee. Qui traccio di nuovo le linee, perché così la matita mi contiene il colore. E adesso procedo negli spazi più lontani col pennello più piccolo e tondo. E negli spazi più vicini procedo magari con il colore... Con il pennello più grosso. Io adesso ho deciso di farli neri. Poi casomai ripasserò con un altro colore. Ah, bisogna aspettare, logicamente, che il mare si sia asciugato. E non sono proprio precisa, perché? Perché sto scomoda. Ok, prendo di nuovo il colore e dipingo qua. Cercate di dipingere con la luce del giorno, insomma, con la luce naturale, perché altrimenti le ombre non vi aiutano. Quindi, ecco qua. Se gli scacchi sono ben marcati con la matita, il contorno sono ben marcati, il contorno di una matita morbida vi aiuta a contenere il colore. Adesso, probabilmente, c'è un po' di polvere qua e sulla pastiglia di colore e quindi mi vengono questi rotolini. Però ci accontentiamo. Il colore non è nero come vorrei, però questa cosa qui mi permette poi di passarci sopra un'altra volta, se lo voglio scurire. Qui, invece, qui, però, bisogna fare una considerazione. Siccome il pavimento è una cosa reale, cosa succede per le cose reali, quindi non per il cielo o per il mare, che lontano sono più oscuri, in alto il cielo è più scuro. Ecco, gli oggetti, via via che sono più lontani da noi, oltre a diventare più piccoli, li vediamo anche un pochino più chiari, perché comunque tra noi e gli oggetti ci potrebbe essere un po' di foschia. Adesso, cerchiamo di essere precisi e di stare dentro gli scacchi, ma se dovessimo andare un po' fuori non è così grave, perché comunque sia poi dopo i contorni li possiamo ripassare di nuovo. Io coloro riga per riga in maniera tale che mi regolo con la tonalità, abbiamo detto che quelli più lontani sono più chiari e quindi io procedo magari prendendo un po' più colore in maniera tale che gli scacchi via via diventino un po' più scuri. Adesso questi ancora non sono più scuri, ma piano piano lo diventeranno. Basta che ci metto un po' di colore in più e piano piano speriamo che il foglio lo assorba. Qui andiamo avanti, uno scacco sì, uno scacco no, ricordiamoci. Ecco qui sono andata fuori. E cerchiamo gli scacchi di farli uniformi. Quindi se ci mettiamo tanto colore è anche difficile farli in maniera uniforme. Cercate sempre di fare il più possibile righe orizzontali. Ecco, poi quando uno scacco si è asciugato magari gli date un altro pochino di colore. Se ci avete una troppa acqua su uno scacco, come al solito prendete lo scottex e tamponate. Ok, qui per esempio c'è troppo un puntino troppo scuro. E andiamo avanti. La scacchiera dove potrebbe essere appoggiata? La scacchiera potrebbe essere appoggiata sulla spiaggia, potrebbe essere una pavimentazione della spiaggia. Come per esempio accade alla terrazza Mascagni, a Livorno. E quindi c'è questa bellissima terrazza proprio in prossimità del mare che al tramonto diventa una cosa bellissima perché il tramonto a Livorno sul Tirreno ha una luce praticamente quasi accecante e questa luce era piaciuta tantissimo ai macchiaioli. ecco, non sono precisissima quindi e così vado avanti per tutti gli spazi uno sì, uno no, colorando uno sì, uno no fino a qua giù, quindi colorerò questo colorerò questo adesso li coloro chiaro di un colore chiaro per capirci ma poi ci ripasserò sopra poi colorerò questo qua colorerò questo ecco che mi cadrà l'acqua cercate di non fare macchie all'interno dello scacco però insomma fate quello che potete cercate di colorarli in maniera uniforme ma per quello che potete insomma noi non abbiamo né pennelli ottimi né acquerelli ottimi quindi il risultato e nemmeno una mano ottima e quindi ci dobbiamo accontentare del risultato che ci viene sempre contenti di aver sfondato la bandiera la barriera del foglio bianco soddisfatti di quello che si fa perché comunque sono tutti esercizi per prendere dimestichezza con cose nuove quindi acquerello dentro un contorno geometrico un disegno geometrico come la prospettiva che insomma parla di profondità di distanze e quindi è un po' impegnativa per non dire che stiamo anche introducendo il concetto di prospettiva aerea che però verrà formulato da Leonardo da Vinci nel 500 prospettiva aerea non vuol dire con l'aereo ma vuol dire una prospettiva che tiene conto della presenza dell'atmosfera e cioè dell'aereo aereo e quindi ecco qua intanto ho dato una colorata a tutto quasi tutto il pavimento e quindi coloro questo scacco qui e poi ho finito con il pavimento ecco qua il risultato ho cercato di scurire un po' questi ma non è ancora il risultato che volevo e poi di qua e di là ho intenzione di metterci un po' di sabbia e quindi ci faccio un po' di giallo ocra quindi negli spigoletti che avanzano fuori dalla scacchiera ci metto un po' di sabbia come se fossimo proprio il riva al mare qua un po' troppo e lo tolgo tolgo un po' e poi ridistribuisco il colore non è precisissimo ma siamo stati bravi lo stesso ci consideriamo bravi lo stesso ecco qua quindi gli scacchi quelli li possiamo lasciare bianchi oppure ci possiamo dare un po' un altro colore se vogliamo magari un colore molto chiaro e adesso vado a fare un po' le ondine prendo poca acqua il pennello affusolato e tondo insisto tanto voglio tanto colore concentrato e vado a disegnare le mie ondine non vi preoccupate cercate solo di essere attenti a quello che fate poi se non è proprio realistico non ci importa facciamo delle ondine sempre più piccole e anche più leggere quindi piccoline io qui non ho cancellato le linee in realtà le potevamo cancellare in maniera che non si vedessero più ma non ci importa non è quello quella lascia ancora in evidenza la costruzione e ci piace lo stesso e ci accontentiamo io disegno da una posizione un po' scomoda quindi ho la giustificazione a questa onda che pare una barca però va bene facciamo che vada bene se ci vogliamo fare qualche qualche ondina bianca dobbiamo assolutamente andare a prendere il colore a tempera bianco e quindi ce lo carichiamo e sempre sull'asciutto possiamo fare dare anche delle pennellate però un po' dense dovremmo darle di colore bianco oppure col col bianchetto alla fine lo possiamo dare e così questo è una volta asciugato possiamo anche lasciarlo asciugare ecco qui ho fatto una macchia perché l'ho toccato con il dito una volta asciugato se vogliamo possiamo scurire quello che avevamo detto se vogliamo fare dei ritocchi che non consistano nel togliere il colore per dire qui io questa pennellata non mi piace voglio togliere il colore ora ci metto un po' d'acqua e poi vado a tamponarlo però si può fare poco con l'acquerello togliere è difficile con l'acquerello invece posso scurire per esempio ho intenzione di fare quello che avevo detto prima cioè di scurire le piastrelle via via più vicino a me e di fare il cielo un po' più scuro nella parte più alta e anche il mare magari si potrebbe anche scurire un po' di più qua all'orizzonte proprio ecco una reghina così niente 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 spalmiamo ecco qua forse adesso un po' meglio ecco qua e perché non farci magari una barchetta poi quando è asciutta magari all'orizzonte ci potremmo fare anche una barca da qualche parte per ora il lavoro è finito è un po' deserto no? non c'è un animale non c'è una figura umana no? non c'è un gabbiano poi dopo lo popoleremo alla fine aggiungendo le figure o con i pastelli acquerellabili stelli acquerellabili oppure potremmo anche incollarci sopra qualcosa e ho già un'idea su cosa incollarci magari potremmo tirar dentro un po' il discorso dei pezzi degli scacchi quindi regina e magari qualche animale un po' immaginario un po' Grazie.